siamo arrivati nella città di guanajuato che è la capitale dello stato di guanajuato stiamo camminando verso il centro storico guardate che belle queste volte guardate che belle le case tutte colorate da sopra entriamo in questa stradina tutta colorata con le bandierine c'è insomma di essere in un film guarda che bello il caffè là sopra ma la tranquillità si respira qui bello ah guardate questa chiesa la faccio vedere da davanti che merita davvero questo è il teatro juarez che bello da fuori molto molto bello guardate la forma di questi alberi che cosa hanno creato bello guardate sotto com'è ma io sono innamorato di queste cose questa invece la chiesa di san diego poche città conservano questa tradizione che ovviamente un lavoro ma anche una tradizione molto affascinante vedere come lucidano e puliscono le scarpe in strada questo è il teatro principale sto letteralmente impazzendo per queste vie tutte colorate ma sono veramente veramente carina la catrina negozio di dolci e vende tutti i dolci tipici del messico guardate ma che belli adesso prenderemo una funivia proprio qui basta salire qua e ci porterà sul monte dove vedremo una vista pazzesca entriamo nella funivia ma si parte qua ho già la vista spettacolare che vista magnifica su guanajuato questa è veramente una vista eccezionale che meraviglia che meraviglia oltre alla vista pazzesca su guanajuato la gente viene fin qua sopra per vedere la scultura di pipi là guardate quanto è grande immensa staffa colazione che stiamo morendo di fame super mexican ordinato una chesadilla e una gordita di carne wow con formaggio tu che vediste? un tlacollo di chicharron e una gordita di chicharron wow siamo al callejon de los besos e la leggenda narra che due amanti siano andati un bacio da quel balcone alla terrazza guardate e guardate da fuori famoso balcone dove ci si dà il bacio Michele cosa hai comprato? sono indietro ci si è il bacio di paio ci si è grazie via